bentornati ragazzi e bentornati su fortnite finite le prime prime per modo di dire 18 sfide di sky potrete decidere se sbloccarla in versione spettri o in versione ombre e allora andiamo subito in sala genti e vediamo come si fa sky urgente andiamo a vedere altra informazione ombre esperto andiamo a vedere la missione di ombre qual è trova holly che sarebbe il suo cappello rimbalzino chiamiamolo così delle ombre nella foresta frignante ok andiamo a vedere quella di spettri cosa c'è da fare trova holly degli spettri a fattoria frenetica e noi ragazzi abbiamo deciso di fare questa versione spettri quindi accettiamo vi faremo vedere infatti in questo video solo alla versione spettri per la versione ombre dovete recarvi nel centro di foresta frignante subito dietro la casa più grande troverete holly comunque se avete problemi scrivete nei commenti e vi aiuteremo senza problemi andiamo indietro e ci rivediamo in volo in volo ragazzi tempo che atterriamo a fattoria io vi chiedo un mi piace al video e se vi fa piacere un iscrizione al canale per supportarci un pochino bene adesso dobbiamo trovare holly ovvero il cappello di sky che dovrebbe essere vicino a qualcuna di queste recinzioni tanto sentiamo già anche del rumore dei nemici ed ecco holly cappello che è scappato e in questa versione spettri sappiatelo ragazzi che lo dovete seguire ma è abbastanza facile mentre per la versione ombre lo prenderete subito proviamo così ed ecco indossa holly e missione finita nuovo stile sbloccato emote fatta e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi